Gli imprenditori del divertimento fanno un po' le vittime, ma sono davvero vittime, come si raccontano anche nel pezzo di Max Andretta, oppure hanno delle responsabilità anche loro? Colpevoli ce ne sono molti, sicuramente c'è Solinas, che sappiamo ha fatto quello che ha fatto. C'è sicuramente chi è andato e con totale senso di responsabilità, è andato in discoteca senza mascherine, ha deciso di divertirsi, facendo pagare agli altri un prezzo molto alto. Però poi ci sono gli imprenditori che vedevano quello che succedeva, sapevano quello che succedeva. Quelle immagini che sono circolate sono inequivocabili. C'era acqua nebulizzata nelle discoteche, che è inevitabilmente un propagatore del virus. Il narghilè, che sembra una scemenza, sembra un accessorio frivolo, inutile, è la negazione di qualsiasi cautela sanitaria. E non è qualcosa di indispensabile. Quindi c'è stata una compartecipazione. Il ruolo di Flavio Breatore in questa Sardegna infuocata ad agosto qual è? Flavio Breatore è stato il portavoce di questi riti spregiudicati. Ha parlato per gli imprenditori, ma ha parlato anche per tutto il popolo di Menefreghisti, che in quel momento non erano solo in Sardegna. Perché noi parliamo sempre di Sardegna, ma c'era anche la Puglia, c'era anche la Riviera Romagnola. C'erano tanti di luoghi in cui c'erano queste scene, probabilmente meno raccontate, e che sono diventati forse focolai meno importanti, perché la Sardegna ha una conformazione particolare. Intanto è un'isola, poi il turismo lì è a lungo termine, nel senso che non vai a farti il weekendino, come può succedere magari a Gallipoli, ma in Sardegna se vai resti. E poi lì c'è proprio quel turismo, il turismo del mondo della notte. Noi abbiamo raccontato tantissimo il turismo sardo relativo alla Costa Smeralda, però ricordiamoci che tutto quello che è successo, cioè la parte del turismo che ha difeso strenuamente Solinas e Flavio Ebreatore, non è l'unica in Sardegna. C'è tutto il turismo dei villaggi turistici, delle imprese, quelle familiari, eccetera, che hanno sofferto tantissimo per questa politica e che l'hanno pagata a caro prezzo, di cui nessuno, nessuno mai ha parlato. Bene, così...